Bentornati a Le Invenzioni per Tutti, l'imperdibile appuntamento con il vostro genio preferito. Quando mai hai caricato un video di invenzioni? Vi mostrerò come costruire incredibili invenzioni in modo facile, veloce e, soprattutto... E come avrete capito, non sono solo. Per dimostrarvi che possono farcela proprio tutti, parteciperanno anche Crypta e Macabro. Allora, siete pronti? Ma in realtà a me... Io non credo sia il caso di... E allora, sigla! Questo canale gli ha dato alla testa. Ha usato la sigla di Alitosi. Ci costerà un sacco, indirizzo. Rieccoci qui, ben trovati. Ah, e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Chi di voi non ha mai desiderato cancellare la forza di gravità e fluttuare come un vero astronauta? Restare incollati alla fredda Terra è un costante promemoria della nostra condizione effimera. Da oggi non più. Vi mostrerò come costruire una macchina antigravitazionale. Innanzitutto, prendete un cartoncino colorato e un pennarello. fatto? Bene, ora disegnate un bel cerchio. Potete aiutarvi calcando i bordi di un oggetto tondo, come questo piatto. fatto? Facile, no? Aspetta! È stato più forte di me. Ok, ora prendete un paio di forbici a punta arrotondata e ritagliatelo. Fallo tu. Io non posso. Fatto. Ora cospargete un lato del vostro cerchio di colla vinilica. E questa era la cosa più divertente del video. Potete anche chiuderlo. Ciao! Non resta che fare un piccolo buco al centro del cerchio. Quindi attaccarci un microprocessore a 76 GHz, saldarci un invertitore polare a raggi gamma e scansionare il tutto con un depolarizzatore sintonizzato sulle frequenze di urano. Fatto. Ma va, va. Oggi avete imparato che le speranze portano solo a grandi delusioni. Beh, è tutto per oggi. Non perdete la prossima puntata. Vi spiegherò come costruire una macchina del tempo usando solo due puntine, nastro adesivo e un protore pulsore atomico. Ciao! Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, condividete e non dimenticate di attivare le notifiche.